Proseguono i presidi di raccolta firme per il ripristino del servizio di continuità assistenziale sul territorio promossi dalla segreteria del PD di Pesaro e Urbino, iniziati il 22 luglio scorso. Questa mattina sit-in a Pesaro in piazza Agide Fava e a Fano davanti alla struttura di via Pizzagalli. Ai presidi presenti diversi esponenti politici, la segretaria provinciale del PD Rosetta Fulvi e i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri che ha sottolineato come ad oggi siano 10 le guardie mediche chiuse o depotenziate sul nostro territorio. E anche a Fano la postazione di guardia medica che vedete qui alle mie spalle è chiusa durante la settimana aperta solo nel weekend, una situazione gravissima che in questa estate sta pesando più che mai anche a causa dei turisti presenti nella città che non sanno a che rivolgersi e quindi appesantiscono ulteriormente il pronto soccorso. Io ringrazio oggi per essere qua i tanti amministratori, i rappresentanti del territorio che hanno preso parte al banchetto perché deve essere ancora una volta un invito alla giunta a Quaroli a prendere in considerazione il problema che ha creato questa giunta negli ultimi due anni. Prima le guardie mediche, lo voglio ricordare, c'erano, sono in questi ultimi due anni che sono state chiuse quasi 10 postazioni e che i medici sono passati nella nostra provincia da 28 a 8. e tutti quei 20 che stanno mancando in questo momento non sono tutti in pensione o impegnati in specializzazione. Io ho presentato numerosi atti in consiglio regionale proponendo delle soluzioni, quella di abbattere l'incompatibilità, quindi di permettere ai medici di base con più di 650 mutuati di coprire i turni vacanti, quelli di permetterlo ai medici in pensione e soprattutto quello di prevedere un accordo integrativo regionale, ovvero il compenso, la retribuzione delle guardie mediche, adeguato, dignitoso perché altrimenti continueranno tutte a scappare verso altre regioni o verso il privato, verso le cooperative. Una situazione inaccettabile con un problema creato dalla giunta a Quaroli che non sta facendo nulla ora per risolvere. I sit-in ribadiscono l'importanza delle guardie mediche per i cittadini, ha detto invece il segretario PD di Fano della Dora. È inconcepibile che nella terza città delle Marche, con oltre 60.000 abitanti, il servizio di guardia medica sia stato fortemente ridotto. Fuori nel cartello c'è scritto guardia medica turistica. A chi si dovrebbero rivolgere i turisti dal lunedì al giovedì compreso? Come dovrebbero risolvere il problema? Inoltre sentir dire da un assessore regionale alla sanità che la gente si può benissimo rivolgere a pronto soccorso in un momento storico come questo è assolutamente inaccettabile.